Vicenza Calcio sempre più primo in classifica, anche alla luce del derby contro il proprio Acenza. Al momento però la Virtus Entella potrebbe rappresentare il vero antipiace di questo girone. Abbiamo iniziato un campionato, credo in una maniera più che positiva. I risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora sono frutto del lavoro che abbiamo svolto dall'inizio della preparazione ad oggi. Stiamo continuando sotto questo punto di vista e giocando partita dopo partita senza guardare a un discorso di classifica. Adesso dobbiamo mettere più punti nel bagaglio per poi ritrovarceli più avanti e poterli sfruttare al meglio. Parlando della tua carriera in bianco-rosso, sei uno dei titolari inamovibili, totem difensivo o anche capitano. Una crescita continua anche dal punto di vista tecnico. Magari c'è un pizzico di ramaico per essere arrivato un po' tardi al professionismo. Quello sì, però nella vita ci sono sempre tante sorprese. Io sono venuto qua perché il presidente della famiglia Gatti mi ha dato fiducia da quando eravamo in Serie D. In questi tre anni mi sono trovato veramente bene. Devo dire che comunque sono cresciuto anche grazie ai miei compagni e all'allenatore. Parlando del derby, abbiamo visto qualche scintilla con Nole. È successo qualcosa magari negli spogliatoi? Ma i derby sono sempre partite a sé. Nel senso che i derby sono tutti sul filo del nervosismo. Quindi alla prima scintilla si scatena un attimino tutta la rabbia, il nervosismo che ognuno di noi porta dentro. Per noi comunque al terzo anno vincere ancora... Siamo in Serie Positiva perché abbiamo vinto tutti i derby che abbiamo giocato, sia Cremonese che Pro Piacenza. Quindi è uno stimolo sempre in più per portare avanti questo ranking positivo. Hai parlato di Cremonese, ACR e miei rivali dei colori bianco-rossi. Però la Cremonese è in Serie B. A questo punto può essere un sogno, però ti piacerebbe raggiungere la Serie B con questa maglia? Beh, come avevamo detto l'ultima volta che ci eravamo incontrati, sicuramente sognare non costa nulla. È chiaro che l'anno del centenario e comunque dopo tre anni e tutto che sono qui, la cosa più bella che sarebbe da incoronare è quella di portare i Piacenza in Serie B, questo sicuramente.